Il mio primo anno a Palermo è stato molto buono, ho fatto metà stagione, sono arrivato a gennaio ed è andata molto bene, abbiamo vinto il campionato e sono stato molto soddisfatto della mia prima stagione. Il mister Boscaglia si è dimostrato da subito molto bravo, abbiamo iniziato a lavorare già da una settimana molto bene e adesso quando la squadra sarà al completo lavoreremo più a fondo nei dettagli. La prima impressione è stata molto positiva. Fisicamente sto molto bene, sono arrivato preparato e per quanto riguarda il mio obiettivo stagionale è quello sicuramente di fare molto bene, aiutare la squadra per vincere partita dopo partita. Per quanto riguarda il girone C è uno dei gironi più difficili della Serie C, ci sono moltissime squadre forti come noi e noi cercheremo di andare a fare ogni partita i tre punti. Alessandro Martinelli per noi è un giocatore fondamentale e noi gli siamo vicini e speriamo che si risolva tutto al più presto e possa tornare con noi. Per quanto riguarda il coronavirus sicuramente è stata una brutta cosa per tutti, per quanto riguarda la stagione passata ci ha stoppato il campionato e non ci ha dato modo di poter finire sul campo. Per quanto riguarda quest'anno sicuramente è tutto molto più complicato perché bisogna stare più attenti a tutto e quindi anche per noi giocatori è difficile. Speriamo di poter risolvere anche questo il prima possibile per tornare come sempre. I tifosi sicuramente per noi sono il dodicesimo uomo in campo, purtroppo quest'anno inizieremo senza di loro ma saranno sicuramente con noi anche da casa e ci sosterranno anche da casa. Speriamo che possano tornare al più presto allo stadio perché ci aiuteranno molto di più.